Se lei andrà a seguire la processione? Non lo so Non sapete ancora Avete già comprato qualche regalo per Pasqua o di Pasqua? Niente Niente ancora? Niente ancora E come la trascorrerà questa Pasqua? In famiglia In famiglia? Ma in che modo è finita questa crisi pesantissima sulla Pasqua? In parecchia maniera Parecchio? Comunque la ringrazio